Era il 2006 quando chiusero le porte della nostra piscina, le ex player di Invia Matilde Serau. Lo avevamo promesso, riapriamo la nostra piscina. Oggi, dopo 14 anni, finalmente il cantiere. Via alle demolizioni, siamo pronti per mettere mano alla ristrutturazione della vasca. Finalmente la nuova piscina per moncaglieri e per i moncaglieresi. Ricuciamo una ferita che per troppi anni ha subito la nostra città e i nostri cittadini. Un altro impegno mantenuto. Grazie per la visione!